David Clark mi ha minacciata di morte. Ha giurato che se non avessi fatto come voleva, avrebbe fatto del male ai miei cari. Ho agito per proteggere la mia famiglia. Vorrei solo aver fatto lo stesso per le persone morte su quell'aereo. Sono stato incastrato. Siamo stati tutti incastrati. Per gli innocenti, il passato può avere in serbo una ricompensa. Ma per i traditori, è solo questione di tempo perché il passato dia loro quello che meritano. C'è qualcosa che non torna, signorina. E ho intenzione di scoprire che cos'è.